Grazie Cecilia, condivido la nostra presentazione e innanzitutto grazie per la parola, per averci la parola Cecilia e per aver introdotto l'intervento che facciamo a due voci, io e Michela May. Sì, noi nel nostro intervento vogliamo comunque affrontare in modo più specifico i programmi del sistema MTA dalla formazione ai progetti pilota, ma prima di entrare nel vivo dell'intervento, della presentazione, ci sembra importante comunque sintetizzare brevemente che cosa è MTA, che cosa è questo sistema, cos'è quando è nato, perché è nato e da che è composto. In parte è vero che è stato già detto da chi ci ha preceduto, ma chiaramente anche noi che siamo proprio la parte viva e pulsante del sistema sentiamo l'esigenza di appunto molto velocemente comunque delineare i concetti diciamo così fondamentali che costituiscono il nostro sistema. Perché anche il sistema è nato molto recentemente, in realtà appunto il sistema Musei Toscani per l'Alzheimer si è costituito formalmente nell'agosto 2020, con l'obiettivo di rendere accessibile l'arte e la cultura alle persone che affrontano la sfida di vivere con la demenza. Però, come appunto abbiamo già detto, è da ormai tanti anni, da circa dieci anni, che molti musei toscani offrono programmi dedicati alle persone che vivono con l'Alzheimer e da sempre, da quando abbiamo iniziato a lavorare su questi programmi, lavoriamo in rete. Condividiamo un'idea di museo, la stessa idea di museo, condividiamo una stessa idea di demenza che più volte è stata descritta come condizione piuttosto che come malattia e cerchiamo di elaborare un nostro modello, un proprio modello, diciamo, che vada a informare, a caratterizzare tutti i nostri progetti. Sicuramente però questa formalizzazione che appunto è avvenuta così recentemente, crediamo che possa davvero contribuire a rafforzare la rete tematica, possa senz'altro favorire il coordinamento delle attività e ancora di più, diciamo così, intensificarne l'efficacia. Le azioni proprie del nostro sistema consistono nella formazione permanente e continua e questo è un elemento molto importante, è già stato sottolineato e per noi è davvero sempre stato fin da subito molto importante appunto pensare ad una formazione e ad un aggiornamento reciproco. Ma altra azione importante di sistema è quella della comunicazione coordinata. ovviamente per far sì che ci sia una migliore e maggiore diffusione delle nostre iniziative. E ancora, come ha appena raccontato Cristina Bucci nell'intervento che ci ha preceduto, nella costruzione di un dialogo con il Servizio Sociosanitario Nazionale per integrare le proposte dei musei con gli altri servizi dedicati alle persone con demenza, così da promuovere con maggiore incisività un cambiamento sociale e una risposta della comunità alla questione della demenza. Hanno aderito al sistema MTA, oltre all'Associazione L'Immaginario che è il soggetto capofila, 21 istituzioni culturali che rappresentano, come vedete dalla slide, oltre 40 tra musei e sistemi territoriali che sono appunto presenti sul territorio, distribuiti sul territorio toscano. Come già è stato detto, si tratta di realtà molto diverse fra di loro, comprendono musei d'arte, spazi espositivi che offrono mostre temporanee che si alternano nel corso della programmazione annuale, musei di storia naturale, orti botanici, musei archeologici, etnografici e scientifici, ma è anche biblioteche. E ancora una volta, in questa dimensione di scala regionale, sono presenti grandi centri museali, grandi musei anche molto frequentati, molto affollati, e al tempo stesso musei piccolissimi, che comunque sono molto importanti nel loro dialogo specifico, nel loro rapporto specifico sul loro territorio di riferimento. E come abbiamo detto, si sta parlando appunto di una rete che è davvero distribuita in maniera piuttosto capillare sul territorio toscano. Oggi io e Michela, siamo io e Michela a rappresentare questo ricco e variegato sistema, e poiché però un elemento che caratterizza MTA è la collaborazione a tutti i livelli di educatori museali e di professionisti con competenze in ambito geriatrico, cercheremo di dare spazio a questa doppia visione e a entrambe le voci, quella del museo e quella del mondo della cura. Nei primi giorni del lockdown nazionale, quello che come operatori geriatrici ci ha essenzialmente preoccupato e allarmato è pensare a tutte quelle famiglie che sarebbero rimaste sole, isolate a casa, persa ormai l'opportunità di tutte quelle relazioni sociali che avvenivano durante gli incontri di musei, durante i caffè Alzheimer o semplicemente anche nei centri diurni. Senza parlare poi degli anziani delle case di riposo, a cui tuttora sono interdette tutte le relazioni con l'esterno, ma in quelle strutture dove è entrato il Covid anche le relazioni all'interno sono diventate complicatissime. Prima Cecilia parlava di isolamenti nelle stanze, ma considerate anziani che vedono gli operatori che normalmente si sono sempre presi cura di loro coperti dal tutone Covid. Molto difficile abbracciarsi e toccarsi. La perdita di relazione è tuttora un problema penoso per tutti, però per le persone, per tutte le famiglie che si trovano a affrontare l'esperienza dell'Alzheimer questa perdita è disastrosa. Vengono proprio a mancare quei momenti che erano gratificanti, quei momenti gratificanti e significativi che potevano vivere con la persona di cui si prendono cura, con il rischio di rimanere soltanto degli assistenti. Quello che diciamo è supportato anche da uno studio che è stato pubblicato in Italia di recente, a cui faceva riferimento appunto Cecilia, che ha osservato che inoltre la metà delle quasi 5.000 persone con demenza coinvolte sono stati visti già gravamenti sia dei sintomi della demenza che un notevole aumento dei disturbi del comportamento a un mese del lockdown. Ovviamente tutto questo poi si ripercuote con i familiari che si prendono cura di loro e quindi con un notevole aumento di depressione, stress e tempi della cura. Sul versante museale la situazione si presentava diciamo complessa, non così delicata e difficile ma comunque complessa. Da un lato la chiusura dei musei ha determinato un blocco forzato delle attività, di qualsiasi attività ed ha interrotto così sia i programmi consolidati ma ovviamente anche le azioni di avviamento più recente. E questo è avvenuto poi e ha dato seguito poi a un periodo di interregno in cui sono mancate linee direttive specificamente orientate alla missione educativa del museo. E dall'altra parte, dall'altro lato, questa improvvisa interruzione rendeva dolorosamente consapevoli anche tutti noi professionisti museali di quanto fossero rimaste sole e isolate le famiglie che fino a pochi giorni prima frequentavano le attività museali. E ci costringeva e ci ha costretto a un'ulteriore riflessione sul ruolo del museo nella vita culturale e sociale della comunità. Questo pensiero ci ha spinto a trovare soluzioni concrete che potessero dare continuità ai nostri progetti rendendo accessibile il patrimonio culturale con nuove e diverse modalità per garantire e rafforzare l'identità sociale del museo. Quindi alcuni di noi si sono subito attivati fin dalla primavera, fin dal primo lockdown duro, quello che è avvenuto in Italia. Ci siamo attivati e alcuni di noi appunto hanno sperimentato pratiche alternative. Un progetto di attività in presenza che era in corso è stato prontamente riconvertito in un programma di incontri sull'arte online. Mentre in parallelo sono stati elaborati quaderni con indicazioni e materiali per svolgere le attività a casa, in autonomia. Ancora sono state attivate delle chat sui sistemi di messaggistica per la condivisione di pensieri e piccole azioni creative tra i partecipanti. Queste però appunto sono state delle risposte pronte, reattive, ma ovviamente sono state delle esperienze isolate. Mentre come sistema ci sembrava fondamentale appunto aspirare ad un intervento sistemico, il più possibile diffuso e condiviso all'interno di MTA, che poteva essere ottenuto mediante un'azione articolata e integrata volta a dotare tutti gli aderenti e i fiancheggiatori del sistema di una cassetta degli attrezzi per la gestione delle attività a distanza. Quindi abbiamo organizzato un primo intervento informativo su alcune esperienze già in essere che si è tenuto il 9 luglio 2020, per poi programmare in autunno un vero e proprio percorso di formazione in modalità online. Abbiamo pensato di articolare questo percorso di formazione in due parti distinte. Nella prima parte abbiamo appunto strutturato un approfondimento sulle attività museali a distanza, in cui abbiamo proposto esempi provenienti dall'estero e analizzato come case study l'esperienza del gruppo di coordinamento del sistema con il progetto Open Studio, che ci ha fornito esempi concreti di tematiche e attività possibili da discutere e valutare insieme. Durante questa prima parte del percorso abbiamo anche previsto una prima alfabetizzazione digitale, perché sì, anche noi tutti abbiamo capito di averne bisogno, e quindi abbiamo analizzato supporti tecnologici e piattaforme diverse, in modo da capirne le funzionalità e farne un uso consapevole e adeguato al tipo di proposta, ma soprattutto in relazione ai nostri partecipanti. Nella seconda parte del percorso i musei si sono suddivisi per aree tematiche, quindi musei d'arte, musei d'arte sacra, musei di scienza e musei di storia, considerando la storia da appunto un contenitore molto ampio e trasversale da un punto di vista cronologico, quindi dalla storia più antica, dall'archeologia, dalla preistoria e dall'archeologia, fino ai musei di storia più recente. Con ogni gruppo abbiamo avuto un incontro di progettazione per valutare insieme le strategie più adatte da utilizzare, proprio anche in base alla topologia di museo e di collezione. Ecco, tutta la formazione ha avuto come obiettivo quello di coinvolgere i partecipanti in una riflessione sulle motivazioni, sulle richieste, bisogni e desideri e la loro relativa trasformazione in azioni, sia dal punto di vista dei musei, ma anche e soprattutto da quello delle persone con demenza. Abbiamo anche organizzato, a seguito del corso e del percorso di formazione, due giornate di condivisione dei progetti avviati con tutti i partecipanti al percorso e con gli aderenti al sistema, perché ci è sembrato importante favorire l'aggiornamento reciproco e usare questo momento di presentazione come uno stimolo allo scambio e alla circolazione delle idee e delle esperienze. Al percorso, come vedete dalla slide, al percorso formativo, hanno partecipato 70 professionisti del museo, dei musei e del mondo della cura provenienti da tutto il territorio toscano. In seguito al percorso di formazione, sono già partiti 21 progetti museali ed altri ancora sono in via di definizione, quindi sono sul punto di partire adesso e nei prossimi mesi. Da dicembre, quando sono iniziate le attività di sperimentazione a oggi, si sono svolti 57 incontri che hanno coinvolto centinaia di persone, prevalentemente in case di riposo e RSA, ma anche persone che vivono in famiglia e con i loro carer. Per la maggior parte si tratta di esperienze online, durante le quali i partecipanti hanno interagito in diretta con chi conduceva l'attività, collegandosi su piattaforme per videoconferenze. Varie sono state le proposte di attività, che hanno compreso l'osservazione delle opere, oggetti e manufatti delle collezioni, la creazione di storie e poesie, momenti di operatività manuale, per realizzare collage e dipinti o dipinti, ma anche per cucinare un dolce tipico toscano come il castagnaccio, per poi mangiarlo insieme, anche se a distanza. Ci sono stati poi anche dei casi in cui il gruppo di lavoro ha riscontrato delle difficoltà ad utilizzare questa specifica modalità e quindi ha dovuto cambiare in corsa il proprio progetto, adattandolo alla necessità del momento. Questo ha portato, in un caso, a strutturare un percorso di attività che è stato ideato insieme dal gruppo di lavoro, quindi da educatori geriatrici e museali, insieme, ma poi è stato gestito dalle educatrici geriatriche in autonomia nella loro casa di riposo. Mentre, in un altro caso, i professionisti del museo hanno realizzato dei podcast su tematiche concordate, appunto, sempre comunque insieme con il gruppo di lavoro. Questi podcast sono pubblicati e sono quindi a disposizione di chiunque sia interessato ad utilizzarli. Facendo una sorta di prima valutazione, diciamo, tutti i progetti sperimentati sono stati accolti molto positivamente dai partecipanti. Per molti, soprattutto per le famiglie, l'utilizzo della tecnologia era qualcosa di assolutamente nuovo. Non c'era certo l'abitudine, fino adesso, di comunicare utilizzando le piattaforme digitali, ma anche per gli operatori delle case di riposo non è stato sempre semplice trovare la giusta soluzione per fare in modo che i loro ospiti riuscissero a ascoltare e a vedere bene. Le attività proposte sono state molto varie. Ovviamente questo dipendeva sia dalle collezioni di musei che dalle squadre di progettazione. Hanno funzionato quasi sempre bene, direi, anzi sempre bene, e hanno incuriosito ed è stato molto interesse. Sicuramente l'aspetto più complicato è stato per chi conduceva l'attività. Manca il contatto fisico, manca quell'empatia che magari è più facile attivare in presenza. È molto difficile a volte anche semplicemente ascoltare e ripetere le parole degli anziani che non sono abituati a parlare in video e quindi magari qualcosa si perde. Quindi la concentrazione per chi conduce l'attività è massima, forse quasi di più che quando si facevano le attività in presenza. Ne è valsa sicuramente la pena anche perché la possibilità di svolgere le attività in presenza è ancora piuttosto lontana e soprattutto perché siamo riusciti a mantenere tutte quelle relazioni con le famiglie, con l'RSA, con tutti i partecipanti delle attività in presenza e anche a creare nuove relazioni, quindi inserendo nuove strutture, conoscendo nuove famiglie. A tal proposito, proprio perché per noi il momento più importante è quando chiamavamo per telefono i partecipanti uno a uno, fase necessaria per l'alfabetizzazione digitale, ma che poi ci permetteva anche di parlare con le persone, di capire come stavano vivendo la situazione, come stavano semplicemente, oppure di iniziare la conoscenza con le persone nuove. Questa per tutte le squadre di progettazione dei musei del sistema è sempre stata l'operazione uno, cioè il passaggio più importante per l'attivazione dei progetti. Senza questa prima fase i progetti non possono funzionare. Un'altra valutazione importante a cui ci tenevamo tutti un po' a sottolineare è che nonostante le attività siano a distanza, il valore evocativo dell'opera d'arte non si perde, l'autorevolezza del museo non si perde. Questo soprattutto per chi lavora nei musei era un po' la preoccupazione. Fare questa attività senza rendere l'atmosfera del museo, c'era la paura che si perdesse un po' qualcosa. In realtà non è stato così perché tutte le attività si sono basate fondamentalmente sulla relazione con le persone. Si è creato qualcosa di diverso, certo, rispetto all'attività in presenza, ma comunque di grande senso. Ecco, diciamo, ecco, quindi a conferma di ciò anche il fatto che tutti i partecipanti sono stati appunto molto felici di partecipare e una cosa particolare che è emersa proprio dalla voce dei partecipanti è che comunque questo aspetto di collegarsi direttamente ognuno dalle proprie case e quindi entrare un pochino anche nell'intimità familiare delle persone o nelle stanze dell'RSA è stato un aspetto che è piaciuto molto e che diciamo ha reso queste attività molto intime e con un'intimità un po' particolare che a volte in un ambiente di un museo speciale in un ambiente molto grande non sempre può avvenire. vogliamo gli acchiara però vorremmo concludere il nostro intervento con le parole dei partecipanti con un breve video che raccoglie proprio le parole dei partecipanti perché secondo noi diciamo loro molto meglio di noi sono in grado di esprimere quello che hanno provato quello che hanno vissuto all'interno di questo primo blocco di sperimentazione delle attività a distanza. Grazie. fa parte delle cose giuste da fare in realtà la nostra mente ha bisogno sempre di essere sollecitata quando riesce a farlo in modo positivo e ti mette in prova insomma ti sollecita a fare delle riflessioni che anche prima avessi fatte. Sono stata coinvolta perché ho sentito l'atmosfera tranquilla pacifica accogliente non giudicante da parte di tutti e questo mi ha dato la possibilità di esprimermi con estrema tranquillità ecco e questo è stato molto bene molto era una cosa che proprio emotivamente mi ha mi ha arricchito tantissimo questo dover cominciare a usare questi mezzi è stato stimolante anche per la mente delle persone perché quando c'è una certa età si tende a tirare avanti col tran tran di tutti i giorni invece questo non stimola a fare cose nuove a imparare anche cose nuove per me non è stato complicato l'ho fatto volentieri capito un po' strano sì mi è piaciuto anche a me però un po' strano un po' strano vero il fatto di entrare con lo schermo nelle case rende la cosa più intima più personale cioè ci coinvolge in certo modo nella vita degli altri più da vicino e poi a parte il periodo dà vantaggio anche a persone che sono in possibilità di ammoversi a usufruire di questa cosa e questo è molto importante se non ci fosse questa possibilità uno è completamente isolato lasciato a se stesso dando queste cose mi è piaciuta tantissimo quasi una scoperta nuova di guardare con un'attenzione diversa un'opera d'arte queste opere d'arte me le sono sentite proprio quasi come dire vissute ma le sono vissute per noi come avete visto è stata un'occasione per stare insieme quindi è venuta lei quanto a me insomma sì l'attività insieme a casa Siliero poi dopo noi siamo state il pomeriggio insieme anche sì la poesia sì con tutte le parole che abbiamo portato i contributi di tutti quello è stato davvero un bel momento il più bello forse perché finora ha potuto partecipare solo chi ha avuto la possibilità di avere queste piattaforme mettere in condizioni tutti di riuscire a partecipare sono tante le cose di cui abbiamo bisogno la mia preoccupazione più importante non è stata quello di portarle da Geriatra la mia preoccupazione più importante è stata pensare come rallentare la malattia cioè la decadenza a livello intellettuale intellettivo come lo vuoi chiamare no? per me è un impegno è una cosa piacevole però nella mia solitudine che ho qui in casa mi è stata aiutando tanto io ho trovato un grande aiuto tanto 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 affrontare la malattia affrontare la giornata affrontare tutto anche la morte affrontare sì io voglio essere sincera ma per me hanno fatto tanto avete fatto tanto più del dottore dottore mi segnava i farmaci che poi lui non prendeva più per nulla perché con i percorsi museali invece hai quella quella riprova sì quando siamo quando siamo siamo lì vedi la trasformazione dei nostri malati e aiutati anche da appunto da voi operatori che nel modo in cui vi connettete nel modo in cui fate le domande nel modo in cui riportate la spiegazione delle loro espressioni mi ha permesso di riuscire a ricomunicare con la mia mamma anche quando ero a casa e quindi direi che mi ha cambiato la vita quindi cioè io i percorsi museali non li metterei in fondo alla lista delle scelte che si possono fare ma la metterei proprio in cima cioè quello che tu ricavi da un'attività museale te la riporti nel quotidiano dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina mia cara questo un po' tutto nella nostra esistenza non è che sia faticoso un po' faticoso cioè c'è una differenza di fatica o non fatica però la fatica poi di concludere il nostro intervento è concluso vogliamo davvero ringraziare non soltanto tutti voi che ci avete ascoltato ma le persone che abbiamo intervistato a cui abbiamo dato spazio in questo video questa è una sintesi se vogliamo di ore di registrazione che abbiamo fatto con le persone che hanno partecipato alle nostre attività che ci hanno detto tante cose molto intense molto significative e molto esplicative di quello che rappresentano per loro questi progetti quindi davvero li vogliamo ringraziare per essersi messi così anche a nudo con noi e per aver consentito la pubblicazione di questo video in questa occasione grazie a tutti di questo video